Intanto vedremo una stagione tutta intera, che dopo gli anni Covid, questa è una bella novità che ci consente di dispiegare un'avventura, devo dire, davvero con tutti i colori necessari. Tante le occasioni diverse, tanti i nomi belli, ma tante le storie belle, a partire da quella in apertura, un hotel vissuto in maniera originale, tutto al femminile, che ci rimette di fronte alla grande storia di Shakespeare, ripensata attraverso appunto il talento di attrici di grande forza, di grande fascino, come Federica Fracassi e Lucia Lavia, che conosciamo appunto come figlia d'arte. Una sorta di musical contemporaneo è quello con Veronica Pivetti, stanno sparando sulla nostra canzone. Una fonte di stupore sarà l'ospitalità che offriamo a uno degli spettacoli internazionali più interessanti, cioè Nuda, di Daniel Finzi Pasca, un autore svizzero capace davvero di ammaliarci, di meravigliarci. Insomma, tanti appuntamenti, sette serie in abbonamento per tre recite ciascuno, quindi 21 appuntamenti più un'anteprima da non perdere con Emma Dante. Davvero una grande stagione, aspetta tutti gli spettatori che vorranno essere con noi a condividere queste emozioni. Riproponiamo i sette titoli con le tre serate, proprio prima del 2019, come prima del 2019, proprio perché il pubblico, i cittadini ci sono stati vicini. Ci sono stati vicini anche durante la pandemia con le presenze online, con gli apprezzamenti venendo comunque a trovarci. Ecco, e questo ci ha dato la carica, tutto questo ci ha dato la carica per poter riprogrammare questa stagione pensando al meglio, pensando veramente in positivo. Sette titoli avete sentito quali sono, interessanti per tutti. Noi un grande lavoro lo facciamo verso i giovani perché è importante venire a teatro e soprattutto daremo la possibilità a tutti di trovare un posto per venire a respirare l'area della cultura in un teatro meraviglioso. La campagna abbonamenti al Via nel mese di settembre, poi tutti i biglietti saranno in vendita sia nelle biglietterie fisiche ma anche sul nostro sito amatamarche.net e su vivaticket.com ma quello appunto saremo da settembre a disposizione, intanto per conoscerlo abbiamo tutta l'estate per capire appunto bene qual è questa proposta ricca che il teatro di Fano fa appunto a tutti gli spettatori del territorio.